Roma è stata blindata, secondo le imponenti misure di sicurezza del piano tecnico pianificate in questura per l'arrivo del presidente Barack Obama. La città, con sei zone rosse, ha intensificato i controlli a Villa Taverna, dove Obama abiterà durante il soggiorno capitolino e nelle vicinanze dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America. Per l'occasione sono state mobilitate tutte le forze dell'ordine, gli artificieri, i nuclei anti-sabotaggio e l'unità cinofile, che controlleranno i numerosi cunicoli e tombini. Si effettueranno chiusure ai blocchi del traffico, rimozione di tutte le auto in sosta e dei cassonetti lungo i percorsi. Ci sarà anche una vigilanza aerea e la presenza di genti in borghese. Milla genti, 50 uomini ombra, quelli dei servizi segreti statunitensi e quelli italiani, sono in massima allerta. Un corteo di 26 auto e 8 moto scorterà il presidente Obama per gli spostamenti in città tra incontri istituzionali in Vaticano, al Quirinale e a Villa Madama e per le visite ai luoghi simbolo di Roma. Disagi per i turisti che vedranno soppresse le fermate dell'autobus davanti all'ingresso del Colosseo e sbarrata la fermata della metro. I riflettori delle forze dell'ordine sono stati puntati anche su iniziative di protesta che si potrebbero verificare contro Obama. L'arrivo dei presidenti degli Stati Uniti d'America è avvenuto ieri sera all'aeroporto di Fiumicino, verso le ore 21 e 30, a bordo dell'aereo Air Force One.